Maestro Gaetano Maschio in attesa del Ferragosto, il 14 c'è un importante appuntamento a Piazza Rosario all'Acquameno. Sì, noi torniamo ancora una volta in Piazza Rosario all'Acquameno per il tradizionale appuntamento legato alla festività della Madonna Assunta. Quindi siamo grati all'amministrazione comunale di l'Acquameno, al sindaco Pascali, a tutti coloro che ancora una volta ci hanno voluti in questa piazza, anche la confraternita, perché lì da tanti anni portiamo il nostro messaggio musicale, il nostro messaggio artistico. E quest'anno ancora una volta con Eternamente Napoli. Il titolo è già, spero, una garanzia, perché sarà proprio la canzone napoletana ancora una volta ad essere la regina di una serata che partirà alle ore 22 in Piazza Rosario con le più belle canzoni napoletane. Avremo con noi il soprano Filomena Piro, il fantasista Salvatore Mattera, la cantante Elisabetta Maschio e saremo musicalmente diretti dal maestro Peppino Iacono. E naturalmente non dimentichiamoci che a pochi minuti dalla mezzanotte, lo dico perché me lo chiedono tutti, ci sarà il beato transito della Vergine Maria. Quindi lasceremo il momento artistico napoletano e ci immergeremo in questa atmosfera che solo quella serata all'acqua meno sa dare. Quindi al buio l'uscita della Madonna con il transito e il canto dell'Ave Maria. Quindi ancora una volta direi una serata da vivere dall'inizio alla fine insieme per augurarci buona festività dell'Assunta e buon Ferragosto.